Questa mattina, mestre, prima la rapina a un anziano in via Cavallotti, angolo via Piave, intorno alle 8 e un quarto, quando all'uscita del panificio il pensionato si è visto scippato del suo telefonino, estrattonato e caduto violentamente a terra. Ad assistere al fatto ben due commercianti, a cominciare da Michela, la panettiera. Era appena stato qua a prendere due brioche, tra l'altro era tantissimo che non veniva, e appena girato l'angolo, uscito, aveva il cellulare in mano, io ho visto il ragazzo in bicicletta che era un po' che girava, brutta, brutto volto, ecco diciamo così, e niente, due secondi dopo è iniziato a corso il ragazzo, il signore Orlando che le aveva rubato il cellulare. A prestare i primi soccorsi all'anziano Lucia, la pasticcera di tre esercizi più in là. Gridava, aiuto, aiuto, chiamate la polizia, e sono uscita e ho chiamato la polizia perché questo gridava, mi hanno rubato il telefonino, allora l'ho fatto accomodare qui al bar e è arrivata la polizia. Nemmeno il tempo di riprendersi dallo shock che un'ora e mezza dopo avviene il secondo episodio criminale con il furto di maglietta al negozio etnico del bengalese di Poo, ha inseguito il ladro con la mazza, racconta. Sempre barbone, sempre casino, sempre, come mai? Come passare vita qua? Io abito qua, io in tenere abito qua cinque anni, sempre io guardo mattina, notte, pombreggio, tutti i casino, casino, casino. Però come passare vita qua? I giocigli dei barboni con gli scatoloni di cartone che di notte si trasformano all'occorrenza in materassi e cuscino ancora visibili nell'ex negozio sfitto dei cinesi di fronte a quello di di Poo. Sotto apporticato, pochi più in là, una donna chiede l'elemosina. E giorno, lei è visibile. Come nella notte gli invisibili, qui in piazzetta San Francesco, angolo via Piave, ritrovo di pusce sbandati e tossici come lei, Jessica, mestrina, ha soltanto 25 anni. Seringa al braccio, viene qui per farsi. Ieri sera, qui in via Buccali, sempre angolo via Piave, i commercianti hanno chiamato di nuovo gli agenti della locale che, verbale e in mano, hanno schedato un bel po' di persone. Agenti che a loro volta, però, hanno subito un gravissimo furto, come racconta un residente in questo video pubblicato su Facebook. Oggi è il 23 agosto e come potete vedere qui per terra ci sono documenti del Comune di Venezia, dei verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, del verbale unico per fermi e sequestri amministrativi e anche, sempre, della polizia locale, un altro blocco per i verbali. Qui è appena arrivata la polizia locale.